Il popolo di Battiti non guarda l'orologio, la notte è ancora lunga e la carica di adrenalina delle chitarre elettriche è fortissima e anche se c'è già qualcuno che dorme, c'è poca voglia di rientrare. Chi sta telefonando? Mia madre! Che dice la mamma? Che devo tornare a casa. C'è da fare un po' di chilometri in auto, come questo gruppo di ragazzi di Trani, e c'è chi si prepara al grande giorno. Un saluto speciale a chi? A Daniele Barbieri che domani si sposa, eccolo lì. E' lui il testimone? Sono io il testimone. Chi è che si sposa? E' lui. No, no, mettete qui da qua. E' lui, è lui. Vabbè, allora la sposa dov'è? La sposa si è andata a casa perché adesso è tardi. Non so come si mette domani. Domani si metterà malissimo, tutto a posto, amore, tranquilla. E' innamorato dell'Italia invece, questo ragazzo che viene da lontano. E' da Turchese. Ah, Turchese? Ma sei a Bari? Sì, Bari. Ok, Turchese di dove? E' Istanbul. Istanbul, eh. Il fiume di gente sta lasciando il lungomare e le squadre e i mezzi dell'AMIU sono pronti ad entrare in azione. Le aspetta un duro lavoro. C'è già traffico su Corso Cavour. Questi vigili urbani sono entrati in servizio a mezzanotte. Per due ragazzi il concerto finisce proprio male. Lo scooter parcheggiato dal Petruzzelli non c'è più. E' il triste ritorno alla realtà dopo la magia della musica. Noi, non c'è più. 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 Grazie a tutti.